Mertens, a radio rigore, Mertens con il destro! La firma di Tris Mertens! Servito l'albanese, il cross passo, palla che passa! E Mertens fa 2 a 2, al posto giusto, al momento giusto! Bante Mertens con il destro! 2 a 0 Napoli! L'ha messa lì, nell'angolo! Ancora Cagliecon dentro, verso Milik! E poi c'è il 4 a 0! E poi c'è il 4 a 0 in regolare, Mertens! Doppietta per lui, un secondo tempo da sogno! La Croazia dà un buon contributo, vada che diventa buona per Cagliecon, Cagliecon! In petto Mertens! Mertens! 1-2 per Cagliecon, per la posizione di Mertens, cercando Mertens! Dries Mertens! Questa volta non sbaglia, dopo l'errore di Skorupski! Attenzione, Mertens, zona tiro! Uno tripling, Mertens! Rata! Che gol! Che numeri, Mertens! Fuori classe assoluto! 2 a 0! Mertens si gira e calcia! Illumina Napoli, Mertens! Bello anche di giorno, dopo la Red in Champions di notte a Lisbona! Trovato Mertens, la posizione regolare, Mertens! 4 a 0 del Napoli, doppietta di Mertens! Il Napoli padrone, Mertens, Mertens! Si porta il pallone a casa, tripletta per Mertens! Trova sotto, Ulamma e Cagliecon in area allo spagnolo! All'interno! Arriba Mertens! Ancora, Dries Mertens! Palla in volta, 1-0! Fischia Doveri, destro! Secco di Mertens! 5 gol, 2 partite! 2 a 0 per il Napoli! Cagliecon, col destro da lontano, alto una mano! Mertens, Mertens, Mertens! Non è tripletta! Si, è tripletta! Ma che momento è per Dries Mertens! Clavo, pronto! Ancora Mertens! Non è vero! Va a crollare il San Paolo! Col cucchiaione! Poker di Mertens! 10 in campionato, 5 per il Napoli! Mertens, recupera palla su Tomovic! Mertens! Non ha perdonato questa verità! E 2 a 1 per il Napoli! Tomovic, un regalo a Mertens! E di questi tempi, non è l'uomo adatto! Numero su Memushai! All'Anne! Tocco dentro! Eccolo i golli di Dries Mertens! Mertens, Mertens, Mertens! La fa però di volta il match! La match è il Napoli con Dries Mertens! Parte Mertens! E 3 a 0 per il Napoli! Sono fortici il campionato! Vola la formazione di Sarri! Rischi va a pescare Mertens che è in posizione regolare! Mertens è solo davanti a Milante! Mertens lo salta! Mertens! E il poker del Napoli! E la doppietta di una furia assoluta! Dries Mertens! Mertens compare dal nulla! Mertens, Mertens! Mertens! Napoli 7 bellezze! Al Dallara! Amsic sta partendo Mertens! Vuole il pallone per lui! Mertens! Pallonetto morbido! Rete! Rete! Mertens! Con lo scavetto! Supera Shesley! Si accetta improvvisamente! Cerca un pallone in mezzo! E arriva il gol! C'è il raddoppio ancora una volta! Ancora una volta di Mertens! Cerca Amsic! Tocca per Mertens! Mertens a sinistro! Mertens! Rete! Ma spoglia! Il fuori classe assoluto! Mertens! Fa esplodere il San Paolo! 1-0! Mertens contro Kordaz! La battuta! Col dentro! Spiazzato il partiere! 2-0 Napoli! 19 in campionato! Ma Mertens! È una meraviglia! La punizione di Mertens! 2-0 Napoli! Nito sbaglia! Mertens! Mertens! Subito Mertens! Il Napoli pareggia ancora! Ma là dentro a cercare Mertens! Ed ecco le go per Napoli! 1-0 Napoli! 27 in stagione per Mertens! Possibilità per lui! Kayakon! Dentro è pronto Mertens! Chris Mertens! Fa 22 in campionato! 28 in stagione! Pallone dentro per Mertens! Al primo pallone toccato! Chris Mertens! Il grosso passo Mertens! Mertens fa calciare! Chris Mertens! 2-0 Napoli! 2-0 Mertens! A sinistra c'è in segno la stagione di Mertens! 3-0! E sono 25 i gol per il Vecchia! Mertens che passa a pallone di piatto! Una torre! Tattaro solo vuoto! Non perdona Mertens! Su un errore travoloso! Zermendo il segno di Mertens! Numero! Salta così con Salo! Poi tocco per Amsic! E' ancora una bala borsa! E' 4-1! Spettacolo Napoli! Taglio di Kayakon! Arriva il volo Mertens! Mertens! Il Napoli in vantaggio! Il Napoli in vantaggio!